Buongiorno e benvenuti alle nostre breaking news, colluttazione con i carabinieri, arrestato un giovane trovato in possesso di droga, infatti è accaduto a Città della Pieve, l'uomo di origine in straniere aveva ulteriori grammi di cocaina all'interno della sua camera di albergo, tempestivo l'intervento delle forze dell'ordine. Lo scorso fine settimana si è tenuto nel centro storico di Figline Valdarno in Cisa la fiera di Autunnia, i numeri sono più che positivi, tanti sono stati i visitatori, a conferma in fondo di una manifestazione che riscuote un interesse sempre crescente, una manifestazione che è andata via via fermandosi nel corso degli anni e alla quale collaborano non solo le amministrazioni comunali, ma anche ovviamente quelle dei commercianti, le stesse associazioni del comprensorio del Valdarno Fiorentino. Lo sport grave infortunio per Francesco Barranca che nel finale della partita con la Vispesaro, al giocatore del Montevarchi, ha subito la lesione completa del tendine di Achille della gamba sinistra, infortunio confermato dagli accertamenti diagnostici, nei prossimi giorni sarà necessario l'intervento chirurgico, notizia che a destato va detto grande impressione in tutto l'ambiente aquilotto. Messaggi di auguri sono arrivati da più parti, la società del Montevarchi in una nota ha mostrato grande vicinanza al giocatore che di fatto ha finito questa stagione. Queste erano le nostre breaking news.